ah tutti insieme maronna mia ah famo quello che no vabbè vabbè no dico tutti insieme va bene va bene va bene no problem che dite ragazzi sei contento di questo premio di lettori di ciak come rivelazione no non lo so come rivelazione sorpresa sei stato il personaggio più sorprendente dell'anno no che meraviglia grande grazie ciak grazie ciak grazie ciak sono commosso non pensavo mai di ricevere un premio cioè ciak d'oro ma è d'oro è d'oro oppure è placato è placato va bene uguale il valore conta dopo tutti i premi che hai preso dai non fai il modesto eh bravo la prossima volta porta cariola c'è la cariola la cosa c'è ogni volta che faccio un traslogo devo pigliare la cariola per mettere tutti i premi e non basta senti marcello per te un premio è sempre lo stesso oppure questo se c'è anche un po più prendista importante eh vabbè allora che veniva a fare se era lo stesso allora già un premio dato da dei lettori da degli spettatori rispetto tu gli fai da traduttore a lui ah ok che siamo tanto cattivi a porta no ogni premio è ogni premio ogni persona è singolo cioè capito io non sono sulla classifica non sono ikea ecco non sono ikea tutti i cucini uguali tutte le case uguali a me piace vedere le cose uniche ogni persona è unica ogni persona è un mondo un universo da scoprire e ogni premio è unico ogni premio ha la sua unicità è per quella persona è stato pensato a quella persona e quindi anche se il premio è uguale ma un uomo cambia cioè quindi penso che no non è uguale è unico invece questa maglietta è uguale a quella che indossavano i ragazzi ah c'ha l'occhio fino c'ha l'occhio fino il ragazzo si che questa maglietta si c'ha l'occhio fino bravissimo come ti chiami grande thomas grande thomas si hai visto bene questa maglietta è quella che del cinema america del cinema america e anche lo stesso colore della squadra dell'atletico san lorenzo che io amo tanto alla squadra di quartiere quindi popolare parliamo popolare parliamo popolo quindi quello che penso è che uscire con le mazze a pecchiare la gente non è tanto popolare pecchiare il popolo cioè quindi credo che questo credo questo che che non sia bello difficile gestire la notorietà per niente cioè io dirò sempre quello che pensa adesso mi trovate in un momento felice magari un'altra volta mi troverete che piango che devo dire faccio quello che mi viene marcello senti ma tra i tuoi prossimi progetti c'è sappiamo con matteo verrone tutto quanto ma si vociferà anche di un ruolo internazionale con martin scorsese addirittura la serie che deve fare in ammazza ah si non lo sapevo manco io chi te l'ha detto scusa chi so se dice io mi ha detto uno che dice che conosce quello che mi viene con te uno mi ha detto che quando forse si dice il peccato ma non il peccato ma chi è questo non lo so manco io no ditemelo a me non me lo preparo ditemelo è vero o no sta cosa ah si con martin scorsese addirittura wow vabbè magari 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 dopo vent'anni a ritrovarci di nuovo dopo venti due anni magari parte più grande percorso sono sono partito da come e poi arrivo da forse di marcello grazie mille marcello